Salve, salve da Marco Calabrò per conto di cellocost.it. Ci troviamo oggi nella Repubblica Dominicana, nell'isola di Santo Domingo, alla Romana, che è una nota località di turismo per la sua flaia. Siamo in una struttura locosta, la struttura si chiama, lo vediamo, l'ha scritto, si chiama La Gloria, è una struttura che sta a un isolato dal centro, dal parco centrale della città. La struttura tiene una entrata orribile, considerate che è una scala molto piccola, c'è una luce rossa, assolutamente chiama l'idea delle coppiette, però all'interno poi troviamo delle stanze che sono valide, sono interessanti, il prezzo è anche buono, diciamo fra gli 800 e i 900 pesos della moneta dominicana, ed è quindi complessivamente un interessante locost per la romana. Non siamo vicini alla spiaggia, attenzione, stiamo parlando della città. Grazie sempre per seguire i video di cellocost.it e arrivederci al prossimo video.